Ciao boys and girls, benvenuti in questo nuovo video e oggi sono qui per mostrarvi come realizzare il contouring e l'highlighting. Se vi siete persi gli altri video non potete assolutamente non andarli a vedere, c'è tutta una playlist sulle tecniche di base, ad esempio come applicare l'highliner, come avere delle labbra perfette, eccetera, insomma, li trovate sul mio canale YouTube nella playlist tecniche di base. Tornando a noi, che cos'è il contouring e che cos'è l'highlighting? Il contouring è quella tecnica, anzi l'arte, di ombreggiare e di andare a creare delle zone di profondità sul nostro viso, scolpendo anche il nostro viso e cercando di minimizzare quelli che secondo noi sono i difetti, mentre invece l'highlighting al contrario andrà ad illuminare ed esaltare le parti del nostro viso. Due sono le tecniche per andare a realizzare il nostro contouring e highlighting, e cioè utilizzare prodotti in crema o utilizzare prodotti in polvere. Oggi io vi mostrerò come realizzare queste due tecniche con i prodotti in polvere, in quanto credo che i prodotti in crema risultino decisamente più pesanti, hanno un effetto più pesante sul nostro viso, mentre invece io per tutti i giorni preferisco decisamente la polvere. Vi ricordo che comunque il contouring è perfetto e si vede benissimo in foto, e lo adoro infatti realizzare sulle spose, perché crea proprio quel gioco di chiaro-oscuro insieme all'highlighting. È una tecnica perfetta anche per chi ha delle guance pienotte o chi vuole nascondere, come ho detto prima, i propri difetti ed esaltare i propri pregi del viso. Sicuramente il primo passo da fare prima di procedere con le nostre tecniche è quello di andare a creare la nostra base viso, e cioè applicare il fondotinta, il correttore, e io sono anche andata ad applicare il blush sulle guance, ho risistemato le sopracciglia, ho applicato un velo di mascara, in quanto oggi non ho intenzione di fare chissà che sugli occhi, e ho applicato anche il mio rossetto di oggi. Prima di cominciare la nostra dimostrazione, vorrei spiegarvi brevemente perché secondo me il contouring è anche importante e fondamentale, perché una volta che noi applichiamo il fondotinta, eliminiamo dal viso tutte le zone ombra, zone luci, creando proprio una tavola bianca, quindi che bisognerà andare poi a pitturare con l'arte del make-up. Ecco perché qui entra in gioco il contouring e l'highlighting, che va a ricreare quelle ombre che già il nostro viso ha. Come secondo step c'è da capire qual è la forma del nostro viso, perché il contouring non è purtroppo uguale per tutti, non c'è una regola precisa per tutti. Sicuramente il viso ideale che uno vuole raggiungere ed avere sarebbe la forma ovale, perciò immaginando di avere un ovale disegnato intorno al nostro viso, ecco tutto ciò che è al di fuori di questo ovale si può tranquillamente ombreggiare, mentre invece noi vogliamo adoltanto eliminare quel effetto del nostro naso largo, vogliamo renderlo più stretto, si può fare con contouring, una mascella troppo pronunciata, basta risistemarlo con contouring, ecco insomma, ripeto per la trecentesima volta, i nostri difetti si possono tranquillamente mimetizzare e rendere meno visibili otticamente, grazie a questa bellissima tecnica. Passiamo subito alla dimostrazione. Come prima linea da tracciare per il contour a me piace andare qui e come faccio a capire qual è la linea giusta, se non è qua, qua, qua? Bene, semplicissimo, basta prendere come riferimento il nostro zigomo, che è questo, si vede quando sorridiamo, quando non sorridiamo, insomma sappiamo qual è lo zigomo, basta andare sotto lo zigomo e sentire con le mani qual è l'osso che rientra. Se proprio non riusciamo a capirlo c'è un secondo metodo, e cioè quello di fare la faccia da pesce. Il terzo metodo, che credo sia quello più facile e magari sulle clienti è un po' meglio farlo invece di farle fare la faccia da pesce, sarebbe quello di immaginare una linea appunto immaginaria che va qui dall'orecchio fino alla bocca e questo è il punto giusto su dove tracciare questa linea. Come potete vedere per tracciare questa linea io parto dall'attaccatura dei capelli, quindi dall'orecchio come vi ho detto prima, e non arrivo fino all'angolo esterno della bocca assolutamente, altrimenti risulterei troppo magra e non sarebbe naturale la cosa, ma mi fermo a metà del mio occhio. Il segretto del contour è quello di sfumare, sfumare, sfumare e sfumare bene. Per la terra da utilizzare non utilizzate una terra troppo aranciata in quanto vogliamo una terra più fredda, che non risulti appunto abbronzata, ma semplicemente che ci vada a scaldare il nostro viso. Il secondo punto del contour è quello qui dove sta la zona delle tempie e l'attaccatura dei capelli. Molto spesso è proprio questa zona qui in cui vediamo che i nostri capelli fanno una piccola rientranza all'interno. Cerchiamo di andare con movimenti circolari e movimenti verso i nostri capelli per non creare appunto una palla di terra messa lì, insomma. Mi raccomando, bilanciate sempre le due metà del viso. Per la nostra terza linea partite dal lobo del nostro orecchio e andate sulla linea mandibolare e mi raccomando non vi portate fino al mento, ma vi fermate prima praticamente in linea all'angolo esterno della bocca. Sfumate, sfumate, sfumate. Ho deciso di mostrarvi brevemente come far sembrare il vostro naso che magari vi sembra troppo largo o più stretto e basta creare queste due linee qui, ovviamente non con un pennello gigante, ma con un pennello più piccolino da sfumatura e più queste due righe voi le fate vicine, più il vostro naso sembrerà stretto, più invece le allontanate, più il vostro naso si allargerà. Se invece avete il naso a patata come ho io, basta semplicemente andare a scurire questi due lati esterni del naso e il naso otticamente non sembrerà più così a patata. Insomma, qualsiasi, se avete la fronte ad esempio troppo larga, basta andare a mettere il contour anche qui e vi creerà una zona d'ombra e vi darà l'illusione ottica di avere una fronte meno ampia, meno larga. Insomma, basta giocare con il chiaro e l'oscuro. Passiamo invece adesso all'highlighting. Le aree che solitamente io porto fuori, porto in luce ed esalto con un illuminante sono gli zigomi, la lunghezza del mio naso e l'arco di cupido e questi utilizzando un illuminante. Mentre invece con il correttore, se voglio portare in luce qualche altra zona, porto quella del mento e quella della fronte con il correttore però. Bene boys and girls, come sempre spero che questo video vi sia stato utile e vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima e fatemelo sapere nei commenti cosa ne pensate di questo contour e highlight. Se non potete assolutamente mostrarvi come realizzare il contouring e lo viso e il cane, ti prego, smetti da bagliare. Uvale, se il nostro viso è un triangolo, non è vero. Partire e cercare di immaginare una linea, immaginare, immaginaria, della metà del mio viso. No, non è vero.